Ora con questo video vedremo in che modo possiamo mettere i distanziali a un'auto. Chiaramente sono messi ad un'auto solo per partecipare a delle manifestazioni. A norma di legge non si può circolare per strada con un'auto con i distanziali, visto che sono state apportate delle modifiche all'auto. Vediamo come procedere. Dopo aver sollevato da terra l'auto si procederà con il togliere la ruota. Ora andiamo a togliere la ruota. Ora due operazioni importanti da fare sono quelle di pulire, scrustare il mozzo, questa parte qui, togliere la ruggine in modo tale che la base sia omogenea. Si può utilizzare uno spazzolo di ferro. Infiliamo il distanziale e verifichiamo che appoggi, che sia ben appoggiato, che non si muova. Per fare una verifica che sia ben appoggiato si può utilizzare un pezzo di carta e tirando si sente che il distanziale è in appoggio al cerchio. Ora basta semplicemente rimontare la ruota. Il venditore, insieme ai distanziali, vi ha fornito dei bulloni più lunghi da essere utilizzati dopo aver montato il distanziale. Tenete da parte, chiaramente, anche quelli più corti da utilizzare quando smonterete di nuovo il distanziale. Ecco bondato il distanziale. Come si può vedere, lo si vede qua così. Fornitore ufficiale Xilema Italia, troverete il link in basso a destra.